Ritorno alla normalità? Se lo augurano proprio tutti dopo il mini campionato della scorsa stagione. Scatta domani l'edizione numero 31 dell'Eccellenza di Puglia. Torna alla formula con partite per quanto riguarda la stagione regolare, con andata e ritorno. E' record di partecipanti 28, una in più della passata stagione equamente distribuite in due gironi. Chi vince la prima fase in ogni caso non ha la certezza della promozione in Serie D che verrà assegnata attraverso uno spareggio secco tra chi la spunterà nei due raggruppamenti. La perdente andrà poi a giocare i playoff nazionali. Le due favorite per la vittoria finale nel girone A intanto debutteranno entrambe in casa. Il Corato sul sintetico del Sant'Angelo dei Ricchi di Andria ospiterà il Real City Nero Verdi con la novità Massimiliano Olivieri in panchina. Il Barletta del riconfermato Francesco Farina se la vedrà invece al San Sabino di Canossa contro un'altra compagine della provincia di Foggia, il San Marco. Ambizioni importanti anche per il città di Mola che andrà ad incrociare il proprio cammino all'esordio con quello dell'Unione Calcio si giocherà sul sintetico del Diliddo di Biceglie. Battessimo interno con la nuova denominazione per il Trinitapoli che sfiderà il Borgo Rosso Wolfetta, una delle ripescate di questa eccellenza. L'altra del girone A, il Canossa, partirà dall'Argano e dall'impegno esterno con l'Atletico Vieste. Interessante pure l'abbinamento tra Manfredonia e Vigortrani di fronte sul neutro di Monte Sant'Angelo in virtù dell'indisponibilità del Miramare. E poi ci sarà pure il derby della provincia di Foggia tra Timortanova e San Severo, si giocherà a San Ferdinando. Partirà in casa nel girone B l'avventura del Martina di Massimo Pizzulli che ospiterà al Tursi, lo Stuni, l'Otranto che ha vinto questo raggruppamento nella passata stagione. Se la vedrà in casa contro il Grottaglie. Poi i derby della provincia di Taranto, Castellaneta, Manduri e Sava Massafra. Quello della provincia di Lecce, Gallipoli, Maglie e ancora Ginosa contro Racale e Virtus Moda, la terza ripescata contro Lugento, si partirà domani alle ore 15.30, ritornerà il campionato di eccellenza, ci auguriamo normale dall'inizio alla fine.